Questo per te è un anno personale numero 5. Cambiamenti, avventura, libertà e progresso, sperimenta, esplora, cambia, evolvi, energia dispersiva, caottica e imprevedibile, potrebbe succedere di tutto, evita distrazioni e spreco di energia, finisci ciò che inizi, giudica bene, aspettati imprevisti e cambi di programma, abbi flessibilità, adattabilità, ottimismo e fiducia in te e nella vita. Cambia in positivo, elimina gli ostacoli, coltiva le tue passioni. Intelligenza e intuito accentuati hanno ideale per promuovere e pubblicizzare, goditi la libertà ma con moderazione.